Altro argomento importante è quando decidi di dire basta, io installo la caldaia a pelle, va bene, installi la caldaia a pelle, allora incominci a cercare le varie informazioni su cosa ti dà un'azienda, cosa ti dà un'altra, adesso ti faccio vedere piazzetta, ma non voglio dire che questa è meglio di un'altra assolutamente, ti voglio dire un altro concetto che gli austriaci hanno inventato la caldaia, o anche i tedeschi, vendono, installano una caldaia autopulente, che significa che ogni 3 o 2 o 4 mesi tutti riforni solamente il cassetto cenere, da lì tanti italiani hanno fatto la loro caldaia autopulente, allora vi garantisco che io ne ho installate tante di caldaie, di varie marche, quello che si divide è questo, caldaia austriaca, da me è installata, da me è funzionante, pulizia cassetti 2-3 mesi, caldaia italiana ci metteci le mani una volta a settimana, quindi non stiamo lì troppo a perdere, no ma adesso la supercola YZ ha fatto la caldaia italiana autorea a soli 2.500 euro, ok, allora la caldaia, parliamo di questa piazzetta che non è autopulente, non ha sistemi particolari che vanno in automatico, questa va pulita circa ogni 4-7 giorni in base alla stagione, quando fa freddo freddo ogni 4 giorni, periodo mezza stagione, una volta a settimana, quindi non diventate matti sull'autopulizia, la scelta è vuoi un servizio completo, sta in Austria, vuoi un prodotto che funzioni bene, l'importante è che l'installazione, mi raccomando, quello che vi dicevo prima, caldaia pellet, puffer, l'assemblamento, la sincronizzazione, di tutto questo fa molta differenza, con anche una buona caldaia pelle e installato correttamente ai consumi di pellet molto bassi e quindi il risparmio e il caldo in casa, quindi acqua sanitaria, doce infinite che faccio, vi farò in un altro video, ve lo spiego bene, ci sarà. Poi, quello che c'è da essere reali e onesti con voi è, quando stiamo in Italia una volta ogni settimana, quelle più buone arrivi una volta ogni 10 giorni, arrivi a mettere mani, in Austria una volta ogni 2-3 mesi. Per non prendere fregature resta aggiornata la nostra pagina, se hai domande a riguardo commentamole sotto questo video.